Immagino che la domanda sia perché un podcast sulla valutazione di impatto ambientale. Dopo è pure bello prendersi un caffè insieme e scambiarci le esperienze che ci portano a un miglioramento. Oggi parleremo di come affrontiamo la tutela dell'ambiente e della salute umana nel nostro lavoro. Immaginandolo in termini molto precoci la possibilità e la necessità di parlare di cambiamento climatico e quindi di mitigazione e adattamento. E soprattutto parliamo di grandi opere come autostrade, ferrovie, porti, dighe. Tutte opere che influiscono sulla vita quotidiana di ogni cittadino. Incontri sulla via. Punti di vista sulla valutazione di impatto ambientale. Eccoci a questo primo incontro di ISPRA dedicato alla valutazione di impatto ambientale in formula audio dove non parleremo di procedura ma di temi ambientali e di obiettivi ambientali da raggiungere insieme. Io sono Viviana Lucia del Dipartimento Valutazione Ambientale di ISPRA e ho qui davanti a me Carolina Ercolani di Italfair. Buongiorno Carolina, parlaci un attimo di Italfair. Chi è? Di cosa si occupa? Buongiorno a tutti, con molto piacere partecipo a questa esperienza. Allora, Italfair fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano e si colloca nel panorama del gruppo come la società di progettazione. La nostra struttura, nell'ambito della filiera che si chiama Ambiente, Archeologia e Architettura, si occupa di tutta la parte di sviluppo ambientale e di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici, nonché dell'esecuzione dei monitoraggi ambientali. Oggi parleremo di come lavoriamo alle procedure via, parlando soprattutto di come sviluppiamo gli studi di impatto ambientale. Quindi la prima domanda che ti volevo porre era proprio questo, parlarci di come voi approcciate alle mitigazioni all'interno della progettazione delle opere, quindi delle vostre opere e delle infrastrutture lineali. Allora, noi partiamo da un approccio fondamentalmente basato sul principio di precauzione e quindi sulla prevenzione, per definire in un corridoio molto ampio di possibili ventagli di soluzioni progettuali quelli che devono essere i condizionamenti che chi sviluppa il tracciato deve prendere in primaria considerazione per non andare a, in generale, poi problematiche nelle fasi dello sviluppo della progettazione. Poi procediamo allo sviluppo degli studi di impatto ambientale andando a fare eventualmente dei micro orientamenti e ad arrivare quindi alla definizione, con un processo ovviamente standardizzato, di quelli che possono essere gli impatti da mitigare o gli orientamenti da dare nel corso delle successive fasi anche di costruzione per la gestione delle potenziali criticità ambientale. Le mitigazioni riguardano tutte le componenti, da quella acustica a quella idraulica, alle opere a verde, la biodiversità, ma una parte prevalente è anche proprio quella della gestione della fase di cantiere, con tutta una serie di misure di contenimento delle emissioni che diventano obblighi e doneri dell'appaltatore e che poi vengono anche controllati nel corso della direzione lavori. Nonché nel corso del monitoraggio ambientale, dove se ci accorgiamo che c'è qualche anomalia diamo indicazioni perché ci siano degli approfondimenti eventuali messi in campo di ulteriori misure mitigative. Un altro tema interessante un po' per tutti noi, anche come cittadini, è quello dei cambiamenti climatici, quindi voi siete pionieri in questo all'interno degli studi di impatto ambientale, quindi come, anche qui, qual è il vostro approccio all'interno degli studi di impatto ambientale? Ecco, grazie per i pionieri, in realtà siamo abbastanza orgogliosi di esserlo. Come ferrovie l'obiettivo contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici è uno dei target fondamentali dello sviluppo del sistema ferroviario che nell'ambito del sistema dei trasporti, diciamo, proprio come tipologia di trasporto si presta bene a questo tipo di interpretazioni e per questi motivi, tra l'altro, è uno dei comparti in cui abbiamo avuto moltissimo finanziamento PNRR nell'ambito della mobilità dei trasporti. In particolare, noi, diciamo, nei nostri studi di impatto ambientale abbiamo concentrato l'attenzione sulle due macro-categorie del cambiamento climatico, quindi la neutralità climatica, quindi mettere in evidenza quelle che sono le mitigazioni al cambiamento climatico e la resilienza, quindi l'adattamento al cambiamento climatico. Sono due discorsi che si compenetrano ma sono leggermente diversi. Un altro tema che sviluppiamo nella stessa categoria è quello della valutazione dei consumi energetici. Ovviamente la ferrovia è un grande consumatore di energia, sia per la trazione elettrica, sia per quello che è il normale uso, quindi impianti e stazioni, insomma, l'uso, diciamo, più civile. Quindi i nostri studi mettono in evidenza come attraverso dei processi virtuosi noi dimensioniamo le nostre infrastrutture per il minor consumo possibile, ma anche mettiamo in evidenza quanto di questo consumo deriva da fonti energetiche rinnovabili. Il gruppo FS ha poi un ambizioso piano di sviluppo di autoconsumo che porterà probabilmente questi target ad aumentare molto significativamente nel tempo. Rapidamente su invece la questione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, premesso che noi siamo, le nostre opere sono fatte per durare. Abbiamo un manuale di progettazione che già prevede la durabilità delle singole componenti dell'infrastruttura rispetto a vari hazard, tra cui hazard anche climatici, tipo il vento, tipo l'escursione termica, ovviamente tipo la precipitazione intensa. Noi stiamo ulteriormente sviluppando le analisi, soprattutto ragionando in termini di previsione dell'impatto del cambiamento futuro, anche attraverso dei nuovi software che stiamo testando proprio in questi momenti per essere sempre più accurati. Questo per ottenere una valutazione concreta, sempre più numerica possibile, relativa alle tematiche di adattamento climatico, eventualmente dare degli indirizzi specifici ai progettisti se bisogna ritararsi rispetto allo standard, diciamo. Questi interventi, queste misure di mitigazione e anche questi espedienti, chiamiamoli così, di resilienza delle vostre opere, vengono monitorati. Quindi adesso ti chiedo di parlare dei piani di monitoraggio, come li strutturate? Ecco, di questo diciamo comincio con la cosa che mi rende più felice, e cioè il fatto che nella mia struttura, ovvero nella struttura che ho il piacere di rappresentare, sia chi sviluppa lo studio di impatto ambientale, quindi redige il progetto di impatto ambientale, sia la struttura che lo esegue. Questo porta un reciproco beneficio, perché abbiamo trovato uno slogan che ha detto una collega da poco e che ci è piaciuto talmente tanto, che lo ripetiamo spesso, passiamo dal 2D della fase della progettazione al 3D della fase di realizzazione, e quindi il reciproco scambio di informazioni ci sta rendendo sempre più efficienti. Quindi, nello studio di impatto ambientale, la conclusione è tutto quello che so di non aver potuto al 100% risolvere, e che so che però non è condizionante la realizzazione dell'opera, lo vado a controllare. Come si esegue questo controllo? Lo si esegue intanto caratterizzando l'ambiente prima che l'intervento abbia inizio. Quindi tutte le componenti ambientali vengono misurate prima dell'attivazione del cantiere in maniera ad avere uno stato inalterato dell'ambiente. Poi, quando cominciano i lavori, si prosegue con quello che è chiamato il corso d'opera, e qui è la parte, diciamo, più importante e anche più dinamica, perché è anche più dinamica nella programmazione temporale delle attività che devono essere svolte. Un'altra grande funzione del monitoraggio ambientale, oltre appunto a verificare il corretto andamento dei lavori, è rispondere in caso di contenziosi. Capitano a volte il cittadino che lamenta vibrazioni, polveri, rumori. Per prima cosa va valutato se quelle lamentele del cittadino, la sorgente è il nostro cantiere oppure altri cantieri. Un caso che ci è capitato, per esempio, è stato di una cava che era inattiva e che a un certo punto è stata riattivata da parte del proprietario, che era nei termini della nostra infrastruttura, e il cittadino ha lamentato un rumore che però abbiamo potuto dimostrare attraverso il monitoraggio ambientale che non era un rumore legato alle nostre attività. Qualora invece si verifica che ci sono delle possibili criticità che sempre intercettiamo molto tempestivamente, che invece sono connesse alle nostre attività, il nostro compito è quello di avvisare la direzione lavori, che farà degli opportuni ordini di servizio all'appaltatore indirizzandolo verso, nel caso più grave, anche la sospensione, magari per alcuni giorni di un certo tipo di lavorazione, magari in periodi particolarmente ventosi si possono fare lavorazioni che magari non emettono troppa polvere in atmosfera, oppure di effettuare misure di mitigazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste. Ecco, infine ti vorrei fare una domanda sull'utilizzo delle linee guida SNPA numero 28 del 2020, che sono quelle appunto strutturate per la redazione degli studi di impatto ambientale, che sono in corso di aggiornamento. Quindi un confronto con chi le utilizza è per noi fondamentale. E quindi come vi strutturate sul percorso che noi abbiamo indicato nelle linee guida? Come ho detto per le banche dati, le linee guida dell'ISPRA sono il faro, tant'è vero che sono state anche riprese dal nuovo codice appalti come documento di indirizzo per lo sviluppo degli studi di impatto ambientale, quindi da un indirizzo di tipo ordinatorio è diventato anche un indirizzo di tipo strutturato facendo parte poi della normativa. È stato semplice ristrutturare e dare un ordinamento logico di approccio alla fase di valutazione e quindi ne abbiamo trovate delle linee guida molto solide e molto efficaci da seguire. In particolare vorrei mettere in luce due o tre aspetti che mi sembrano quelli più importanti come le linee guida abbiano affrontato immaginandolo in termini molto precoci la possibilità e la necessità di parlare di cambiamento climatico e quindi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico assolutamente innovative in quel momento storico come abbiano anche aiutato a influenzare l'analisi degli impatti cumulativi che per noi pure è un elemento piuttosto significativo e quindi ci ha aiutato molto e una piccola chiosa che sembra un elemento più modesto ma non lo è stato nel sancire dei parametri di riferimento ufficiali su certi tipi di indagini in particolare su certe indagini che sono necessarie per affrontare delle tematiche relative alla biodiversità in maniera strutturato prendendo una decisione e quindi dare un'informazione chiara su quello che deve essere il corridoio da analizzare per questo tipo di tematica sembra un aspetto più banale ma invece non lo è stato perché per definire questo corridoio di studio i confronti erano accesi e vivaci e quindi il fatto che qualcuno abbia preso una decisione ovviamente anche sensata ha tolto molti di noi da un po' di imbarazzo e ci ha sciolto un po' di riserve Ringraziamo Carolina e Italfere che si è gentilmente prestata a essere il nostro primo ospite perché questo confronto informale ci dà modo appunto di lavorare ancora meglio insieme lontano dai tavoli del ministero dove ci incontriamo di solito quindi confrontandoci sul nostro modo di lavorare Ti ringrazio moltissimo Io ringrazio voi Sì, quando abbiamo il confronto istituzionale è giusto e doveroso che ognuno stia dalla parte giusta del suo tavolo però dopo è pure bello prenderci un caffè insieme e scambiarci le esperienze che ci portano a un miglioramento Allora, siamo a questo nuovo tentativo di podcast Io sono Marco, vi sapia dell'ISPRA Siamo qui con Viviana su questo nuovo format Incontri sulla via, punti di vista sulla valutazione di impatto ambientale Viviana, che esigenza avete avuto con il vostro gruppo di parlare al cittadino insomma, di fare questo nuovo approccio? Raccontaci La domanda principale è perché un podcast sulla valutazione di impatto ambientale? Per avere uno spazio non convenzionale dove confrontarsi e parlare con tutte quelle professionalità diverse che partecipano con vario ruolo alla procedura via è confrontarsi sul tema della tutela dell'ambiente e del territorio parlando di vari fattori ambientali e di varie tematiche analizzate all'interno della procedura via e soprattutto parliamo di grandi opere, quindi come autostrade, ferrovie, porti, dighe tutte opere che influiscono sulla vita quotidiana di ogni cittadino Grazie a tutti a risentirci al prossimo podcast e per concludere vi affido all'articolo 9 della Costituzione italiana che afferma con forza il concetto di tutela della natura e lo abbina a quello dello sviluppo sostenibile, un modo per riflettere sul nostro obiettivo comune che è la tutela dell'ambiente La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni Grazie a tutti